Al di fuori di quanto è accaduto nel Consiglio dei Ministri, ieri anche la soddisfazione di un importante traguardo che è stata la firma per il rinnovo del contratto nel comparto della scuola, altra misura attesa sulla quale abbiamo investito risorse importanti, attesa da molto, coinvolge circa 1.200.000 persone, prevalentemente ovviamente, docenti, credo che sia insomma un altro segnale anche di un confronto che abbiamo aperto con le parti sociali, con i sindacati, voi sapete che li abbiamo incontrati qualche giorno fa, oggi lunga giornata di incontri per noi con le categorie produttive, sempre in vista ovviamente della legge finanziaria, il rinnovo del contratto era stato anche uno dei temi discussi nel confronto con i sindacati e voglio ringraziare ovviamente il Ministro Valditare e le persone che ci hanno lavorato per questo importante traguardo.